Buonasera a tutti. Il grande gelo siberiano è giunto ormai sulla penisola e i contrasti con il mare adriatico stanno favorendo precipitazioni piuttosto insistenti nelle regioni centrali, in particolare lato adriatico, che stanno assumendo carattere nevoso a quota molto basse. Tempo fortemente instabile anche mercoledì, mentre diverrà fortemente perturbato al sud per la risalita prepotente della profonda depressione nordafricana. Nello specifico, per l'Abruzzo, precipitazioni nevose a quota anche pianeggente e costieri questa notte, da domani fenomeni ad intermittenza tendenti a diminuire nella seconda parte di giornata, ma in attesa di una nuova fase perturbata che dovrebbe giungere nella notte su giovedì. I venti sempre di bora sui settori orientali, ma con intensità in diminuzione. I mari molto mossi. Le temperature sempre molto rigide, le minime di questa notte comprese tra meno 7 e 4 gradi e le massime di domani comprese tra meno 1 e 7 gradi. È tutto per la meteo. Un saluto da Marco.